Su oltre 5.091 iscritti all'Università di Trieste per l'anno accademico 2023-2024, 552, quindi l'11%, provengono dall'estero. Di questi, 23 dalla Slovenia e 32 dalla Croazia. I dati diramati oggi dell'Ateneo Triestino confermano così non solo l'attrattività internazionale dell'Università di Trieste, ma anche il fatto che gli studenti dell'Istria, dopo aver terminato gli studi scolastici in Slovenia e Croazia, scelgono di frequentare l'Università in Italia. Tra i corsi più richiesti, quelli delle aree disciplinari di chimica, economia e gestione aziendale, economia internazionale e mercati finanziari, ingegneria industriale, medicina e chirurgia. Soddisfazione soprattutto per l'attrattività internazionale dell'Ateneo, proprio nel centenario della sua fondazione, è stata espressa dal rettore Roberto Di Lenarda. Questi numeri, ha commentato, sono frutto di un costante lavoro di miglioramento degli spazi, dei laboratori e della strumentazione. Va detto inoltre che i docenti sono passati da 653 nel 2019 ai 744 del 2023, con una riduzione dell'età media di 4 anni.